Benvenuti al meteo. Come annunciata la neve ha imbiancato parte del nostro territorio. Nella giornata di martedì 29 dicembre perturbazione ancora in atto con diffuso maltempo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile. In mattinata cielo molto nuvoloso anche con qualche nebbia ma in genere sarà asciutto. Dal pomeriggio piogge via via più diffuse un po' doppertutto localmente anche di moderata intensità. Venti a tratti tesi da nord est. Temperature sostanzialmente stazionarie minime tra meno 3 e 3 gradi. Valori massimi compresi invece tra i 2 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui precipitazioni sparse ma piuttosto frequenti sin dal mattino e un po' per tutto l'arco della giornata. Anche forti nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 1 e 6 gradi. Massime invece comprese tra i 6 e i 9 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Regione vedete spezzata a metà con tempo asciutto e soleggiato. Sui settori settentrionali piogge e locali nevicate a bassa quota invece altrove. Temperature minime intorno ai meno 3 gradi. Massime invece tra 1 e 2 gradi. Dal meteo per ora è tutto. Vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Grazie a tutti.